Ciao a tutti, come capire che è la persona giusta? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina di Instagram Massimo Terramasco, nonché iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, se tu vuoi capire che la persona con la quale ti relazioni è la persona giusta, devi prestare attenzione ad alcune cose che senti dentro di te. Ok, allora intanto non hai il desiderio di cambiare in qualche modo il partner e lui o lei non ha il desiderio di cambiare te. Si accettano e si rispettano le differenze reciprocamente, questo è molto importante. Si dà e si riceve appoggio, cioè senti un feeling, una situazione profonda. Si gioca, si scherza e si ride assieme, c'è molta ironia all'interno, non è soltanto una relazione basata sul pagare luce, gas e telefono, ma c'è emotività. E questa emotività però non impedisce che si supporta l'altro, c'è una progettazione, si fanno dei progetti insieme, piccoli, grandi, non importa, ma sempre dei progetti si fanno. C'è una comunicazione libera, non ci si sente bloccati nel comunicare con l'altra persona. Si apprezza, si fanno, si ricevono complimenti, cioè complimenti sinceri, cioè si apprezza effettivamente l'altro per ciò che è e non per ciò che vorresti che tu fosse. Non esistono degli schemi rigidi, non esistono dei ruoli rigidi, ma all'interno della coppia i ruoli possono cambiare, ruolo dominante o non dominante, ruolo di guida, ruolo di guidato, insomma. I ruoli sono liberi, flessibili a seconda delle esigenze, ed esiste ovviamente una buona intimità di coppia, una buona attrazione. Ecco, se ci sono tutti questi parametri, allora vuol dire che la persona con la quale che ha incontrato è veramente la persona giusta, altrimenti non lo è. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!